musica caro innanzitutto fammi abbassare quest'audio di merda e la cosa di trovelo sempre questo indicello il mouse il mouse si può spostare il cielo a questo ok adesso ok Eccolo, l'abbiamo conto. Eccolo, l'abbiamo conto. Eccolo, l'abbiamo conto. Eccolo, l'abbiamo conto. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Tu ogni tanto controlla l'avviso a me quando frizza. Allora, corri che c'è un porto alle porte, deathmatch. Veloce. Veloce. Teletubb, sì. Teletubb, sì. Deathmatch, porto. Dai, ci sono due posti, veloci, tre. Corri, Gianni. Sto già dentro io. Sto dentro. Ma chi sei? Oh, eccolo lì. Lo so vedendo. Sì, sì, sì. Ma l'ho visto, non te vedevo prima. Come vedi? Che cazzo fai? Balli con l'orso? Bah. Non ti frizza? Perché stai frizzando? Mh? Perché è molto molto bello. Ehi, baby. Un po' raffreddato. Un po' raffreddato. Eh, un pochettino c'è sempre. Fammi amo. Ma sì. Boh, se ci lasciano... Se qualcuno ci lascia per sbaglio il server, io andavo subì a cambiare la mia stanza. Direcco. Ok. Madonna zero, ecco. Ha fatto uccisioni morti. Due... No. Due punto treinta tre. Quanta tre mila uccisioni ha fatto questa. E sta' con noi. Stacco. Per la cosa ospia. Perchè s'attaccio io? Attenzione Dei scugliattoli In casa di Claudio Attacco Improvviso No no C'è tutto Sto cercando di farmelo venire Vabbè qui non partono Ma possibile Boh Chi è il cavo del server? Mosquito Mosquito Come on Oddio Oh E dai Oh santo e Dio Tanto vinciamo perchè abbiamo No è uscito No c'è sta Sì c'è sta Farà tipo 74 uccisioni Ma la tua Però mo Eh si Quello proprio Non ce piove Ce ne viga e basta Attenzione Cioè fate quello che vi pare Ma la frist blood La mia Si tira sulle maniche addirittura Attenzione Porca madò Se non faccio la frist blood Vado a svegliare Nonno Siamo vetti in là Nonna Nonna Ancora costa e zozze Sta a parlare E' svegliare Mamma mia Dai cazzo Parto pure al lato buono Nooo Non parto dal lato buono No No Lato schifoso Eh La vista non abituata Attenzione Ci prova Attenzione Attenzione Grata gratuita Eccolo è mio Nooo Eh meritato Oh Ah era migliorato? Si Mi sembra di si Ah beh comunque C'ho giocato ieri All'articario Non mi ricordo No no Un po' che ci gioco E' vero comunque è meglio Con l'audio basso Quattro volte ma l'hanno migliorato Noi i proiettili ci hanno messo Un quarto d'ora pari faccia O due metri però Vabbè quelli stanno a piedi Allora Bello Triplo accisione Bello Quattro Accisione No Tu cazzo stava Ma scordi Andiamo andiamo Quattro Caputana Sto Diarazzo Sto davanti a Zirego Attenzione Marca Caputana Ma che cazzo fanno La cosa che non va Perché? Non so Ma so Adesso mi sei Mi ammazza A buffo Io manco il rito No, vaffanculato Tengo testa a zerego, attenzione No, doppia kill Finalmente, farla in partita Ecco perché La ragazza, cioè No Ho fatto due triple uccisioni, però Sto tosto, questa Sto tosto, the game Eh, cazzo Però da fare incursione al centro, ma Scusate, c'è Un po' ganiato Ma che lì sta Sermacetonia che No, vaffanculo Ho appena messo l'abilità Sto muore, c'è sta E' un po' per culo No Eh, questi pensate che sta tutti forti No, vaffanculo Io ne ho prima, sto partito benino Ma ne riesco a ammazzare uno Ma subito dopo rimoro Hai item uguale Hanno preso proprio il campo Comunque non vedo l'utilità di venire a sparare dentro la base Ma no Ma dai Avevo già girato l'angolo Cazzo No, uno mi doveva fa ammazzare sti due, cazzo Eh, sono piazzatissimi questi Eh, ma c'è pure tutto il È possibile questo, se sta, l'ho preso Ma sto Mosquito War è regolare, tipo fa oppure Perchè? Come puzza Io ho il nano delattivato Eh? Ho scaricato tutto il caricatore addosso Tutto addosso Io sono morto E lui stava pieno Ma secondo me sì Ma secondo me sì Qualche città Città è sicuro se becca in giro, eh Però questi mi sembravano un po' Eh, migliori Corazzati, mi sembravano Sì, ma quando è così, certo Ti diverti, ti diverti Sembravano invincibili, cazzo Comunque sì Già che sto arrivando davanti a Zerac L'esperienza è sempre una merda Sì, l'esperienza, madonna mia Uno si fa un culo così in partita E si vede 184 esperienze Ma adesso voglio attivare il 10% più esperienze Attenzione Guarda l'esperienza per il mirino Guarda l'esperienza per il mirino Ma che schifo Infatti sono state esperienzate Lo devono cambiare Cioè questo Vabbè però Alla fine loro C'ho stati due che hanno fatto 24 decisioni per uno Vedi un po' se sto ancora online Se stiamo ancora Eh sì Siamo, ci siamo Chissà come si sente l'audio Te lo dice subito Attenzione Se si sente bene Alto, basso Magro Siamo, ci siamo Chissà come si sente l'audio Te lo dice subito Te lo dice subito Attenzione Sì c'ho quella parlata Tipo Che non devo urla Vabbè C'ho quella parlata dell'una e mezza De notte No però si sente Si sente bene dai Ah Stavo un attimo Se voglio Spendere questo Giurna E sfidarlo Allora abbiamo perso quello forte Moschito Moschito è venuto da noi Voglio vedere una cosa Eh guarda il rapporto Ucciso e rimorti De moschito Quanto fa? Eh 1,91 E' altissimo Cazzo Tancmo Tancmo me lo ricordo Zerecco che gli dice no Comunque vedi pure sto Zerecco no? Cioè ucciso e rimorti 2 Dovresti fare proprio la differenza Hai cominciato la partita? No Eh no Io voglio Il bonus per la gente Come si fa? Profilo? Skin? Aggiorno E che faccia? Sono rimasto in 6? Sì Sofie parecchi Zerecco culo lea forte ha detto che Ha detto nob Cioè guarda io la roba che c'ho che posso indossar Io voglio un box ma alcune non mi vuole capisco Ma che cazzo è? Metti le cose a casa Ah la puoi pure vendere la roba Lo sai? No Ti dice pure vendi Prezzo di vendita dici? Ma Stancuro Scarecati Empire 2 adesso Che vuod che? Ho ancora corrente sotto Capitana Eva Ah solo questo ho fatto Come faccio a tornare la partita? No, era già partita No, se mi fate perdere la first blood Mi incazzo Porco zio Ah, ma aspetta, è demolizione No, è demolizione, no No Bastardi No, ho già sentito una morte Un primo sangue, lo sapevo io Lo sapevo Questa me la pagherete No No, noi con chi stiamo Dai, chi è che la Perdì che perdono Eh? Perdì che perdono Eh, mi sa di sì A o b, a o b Ma, chi c'ha tra di noi? Chi c'ha tra di noi? La cosa Ah, ok Occhio, Cla No, dietro, dietro, Cla Tenete, lo stanno tutti e tre dietro Nella strada dove tu sei appena andato No, no, non voglio seguire Claudio No, cioè, voglio seguire Claudio Ecco Cla, perché devi da fermo? Cla Cla Ah, ma se tu faci Bello Bello Piazza Ma sei un grande Eh, dai, spiegati Manca solo uno Adesso scappa Scappa Anzi, mettiti sopra Eh, bello, bello, bello Qui ho, bene, qui ho No, no, no Però qui ti ho posto Ti ho colato a due parti No, ti sei messo in un punto Do te puoi vedere dappertutto Eh, da sinistra La riscale La riscale La riscale me lo legge da io Buah Sh, 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 zitto, 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 zitto Oidi, oidi Porca puttana Sì, sì Mamma mia Claudio Znegger Su, 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 su Infestation, stai Eh, sto di merda Claudio Znegger E vai Prima sono venuti Tutti alla sinistra Aia Eh, niente Guarda, non me lo so No, guarda Bello, l'ho mo' curato Eccolo Uff 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 Grazie a mio amico fidato radar Il mio compagno di vita Grazie, grazie Grazie, grazie Grazie, grazie Dove andiamo? E qua Finita la torta E andiamo Passiamo al credo Io infernale Vai Occhio qua Facile che fanno gli stronzi Sei libero Piazza No Ti raccoli Do Do Siamo noi Do Siamo noi Uccidiscilo 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 Eh, puttana Vabbè, non l'ho detto Dai Questa comunque C'ha tanto tempo Sì, guarda che mira C'ha tanto tempo Ma è una pessima mira Ah, vedi Ha fatto fare uno Dentro al corridoio Eh, aspetta Perché non gli abbiamo detto Do sta quell'altra Oh, ma si è chiusa la grata Sì, ho fatto questo È un bug È resetto la mappa In realtà Ah, giusto Giusto Comunque Sembrava quasi Che sapeva Che quello veniva Dal corridoio Boh L'ha sentito Lo sentivo proprio io Ah E io non sento il cazzo Io non È perché ho abbassato Una cifra al gioco La musica Non i suoni Eh, i suoni Sento proprio poco poco Nooo Mi ho fatto a morire Piazza Piazza Perché se piazza Qui Occhio lo sento Occhio lo sento Dove stava? Verso destra Ah, tutto a destra Era proprio Era tutto un giro A destra Cazzo Non sento i rumori Però Aumento poco poco Aumenta gli effetti sonori Vindicami tu È tutto basso Che? È tutto quanto basso Sì, tranne gli effetti Adesso Ho rialzato come detto Degli effetti Ah, dietro Ma però Aspetta un attimo Pensaci un attimo La terza volta Questo ci viene Dalle spalle Dal corridoio Dove veniamo noi No, ma questo Secondo me Sì, oltre al radar Ma questo fa il solito giro Perché lui sa i tempi E che in sicuro Gli passiamo davanti Ah, aspettiamo Ma io non aspetta Mi sono fermato Tu ti sei fermato Eh, ma Questa è la terza volta Che ci prende alle spalle Scusa Cazzo fa Guarda, eh Mori, passiamo a sinistra Guarda sto stronzo che fa Ma voglio aspettare Guarda sto stronzo Passa da qua dentro Da dove sta passando Mirko muoto Muoto a tu Guarda, eh Guarda di qua Eh, da qua, da qua, da qua Ah, sono due Sì Attaccatevi al cazzo Hai capito come fanno Fanno il giro di là Così nel tempo Che ci prendono alle spalle Ogni volta Ecco perché Mamma mia Meno male che Mi sono accucciato Stavo senza munizioni Ho provato proprio Ho capito l'ultima cosa Ho lavalo a spacca Hai capito Sti strozzi che facevano Però è stato figo Perché li abbiamo sgamati Abbiamo All'ultimo proprio All'ultimo abbiamo capito Come facevano È importante Non qui Subì Sì No Allora c'è stato Uno sotto le scale E uno È a destra Adesso lì lì Sinistra Sinistra L'entrata a sinistra Lei bravo Bravo Lì 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 Vai 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 Bravo Destino a scallo Quanto Uno Cazzo Bella Eh ho visto Ho visto Sì sì Ho visto Mortacci Sua C'ha detto Una sfiga Della madonna Zola Adesso c'è troppo il muro tuttana è oh assiste dove c'è cosa sta? ma subito per te un po' dietro assoluto puoi pescare pesca in alto, sai? credo che sta qui a sinistra ad ebbi ma è morto, posso? come cazzo è morto? è svenuto? è inciampato? no, quell'altro ha marciato ah, ok ma quanti siamo? vanno a mo' a su nooo ah, sul corridoio a destra, tu dove stai? eh, sta arrivando al paradiso sta arrivando ah no, ecco, ti provo da là ah no, mi sa che è blood, blood triste eh, ti hai già fatto basta, però ha fatto il salo bello ah, ci sei fuori ho preso? si, questo è preso bene 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 si, vado pure dritto a destra vai, ti seguo, ti seguo no, stanno qui, stanno qui, stanno qui, stanno qui, ho visto il radar bomba non ci credo ho preso nella testolina non ci sei rimasti due dove cazzo stanno? scusa, io sono solo a b io sono solo a b manca uno morto uff non ho capito perchè a una certa me lo faceva vedere sempre sulla mappa ah, si è vero, c'era la rocetta che stavo eh, eh, si me lo segnava come se ci avessi sul radar fisso chissà perchè oh, guarda quella che skin eh, si eh, si pure quella lì che c'ha la skin a destra figo che è una rossa bianca mh mh si, c'è un'altra che c'ha la skin di perperizzo ma che è male te lo so che avevo vinto? Quanta esperienza? mh uno vabbè mille 1099 ah, forse qua te dà più esperienza qua hanno aumentato l'esperienza perchè tu hai 2.000 esperienze no, 349 esperienze ah, no, quelli sei gp eh, però ha fatto una bella barrica da te no, poco a me mi avevo 368 ma il cazzo cioè, ti passava no, ma che tu sei proprio tu stai avanti qua con il livello? cioè, ti è passata davvero o ti è passata guagliate? abbiamo vinto, no? eh, si non sembrerebbe l'esperienza ma si è buo vinto non guardate l'esperienza ma dovremmo aver vinto telefonando che facciamo? facciamo l'ultia? e dai ah, questo è gundam, ma qui c'è la skin super figa gundam, si si, poi c'ha proprio la cosa diversa ma che rapporto dei uccisi nord è 2.34 ma chi è? questo è lì con la skin gundam, che è entrato per urti, uno degli ultimi si, però ti ricordi pure prima e che è cool, là c'aveva 2 e passa eppure chi è stato il migliore? io un po' ho capito no, più che altro quell'altro gli hanno fatto dieci quegli avversari, no? di solito uno così ti vince la partita da solo a volte, no? molte volte capita, invece non è riuscito a fare la differenza come tutti si pensavano nooo, è proprio l'ultima mappa nooo, che quello non c'è si, l'ultima partita su una mappa di merda perchè è impossibile migliora il salto se gioco perchè è praticamente ridicolo questo salto che fa si, perfetto fate solo lo scavalco se vanno di di agenti superfunk supercazzuti e poi fanno un salterno del merda c'hanno le peggio tecnologie e poi fanno il salto di mezzo centimetro esatto, non saltano 5 attenzione non conosco bene la mappa quindi andrò a cazzo di cane questo è che fa? guondamma ci ha lasciato così oh no, non mi ha dato il primo sangue chi mi ha no, non mi ha dato il primo sangue no, non mi ha dato il primo sangue no, non mi ha fatto qualcun altro i gianali l'hanno piazzata? ah cazzo, demolizione! io stavo a andare eh sì, non è deathmatch ma chi siamo noi che l'hanno piazzata? no eh, non mi ha fatto il sinnesca ah no, sì, siamo noi storia bene no, non è vero ah sì, abbiamo massato tutti i gianali ah no, ho massato tutti i gianali ah sì sì, dobbiamo piazzare noi bello fare i primi round senza ancora capire in quale squadra siamo che cosa stai facendo che gioco è benissimo io sto provando ad andare a piazzare, su lancio gratuito lancio gratuito nooo eh, la madonna massacrato eh, pensavo che ce ne stava uno invece erano due che poi stavo provando ad andare a subì con quest'article 2 ma... c'hanno... eccolo Gundam! Tum Tum! Gundam! Tum Tum! eeeh ma famas? solo con il silenziatore credo massi piazza ma si muove strano molto morbido, si muove, guarda sinuoso si, uso joystick eh, amico mio ma che è? vabbè, lo scontro uno contro uno, vedi knife eeeh... un coltello mmm... non l'ho capita questa, perchè non l'ha ammazzato? eh, lui, se lo scadrebbe uno contro uno facciamo un coltello ah, ok, infatti lo faccio io, ok, poi gli sparo si esatto, facciamo uno, io sicuro faccio nooo, ho sbagliato, non pensavo di essere già arrivato dai che cazzo vai alla dietro Gundam sta giocando da solo, praticamente sarebbe fermo Mila e Shiro due al cuore della palla a volo lui c'ha l'arma ma questo è co... questo secondo me è... uèh questo bene bene ma non benissimo allora, voglio insistere su questo lato guarda un po' ah, vai non si molla un cazzo no, guarda, fino a qui, fino al salone è tranquilla è anche... dentro a qua la porta là che è un casino ecco, vedi perchè? porco zio no, granata porco zio granata vabbè che poi, a quanto... a quanto pare su questo gioco saltare quando ti lancia una granata non serve poi a molto però fai i salti... quando esplode la granata fai dei salti più in alto fai il più bello fai... è più... è una morte molto più scenica attenzione, prova... cambio obiettivo GRANTEK PIAZZA lo sento, lo sento, lo sento, lo sento eh, l'hai sentito tutto adesso comunque è un gioco frenetico che... per passacce la mezz'oretta non... è divertente allora, è sempre molto brutto ci torniamo quasi sempre sta provando a disorientare la squadra avversaria non c'è riuscita per niente si è disorientata lei secondo me niente, sono ostinato, voglio andare qui a destra, cazzo no, evitatemi il potere no, non ho preso il potere allora, aspetta, qua ogni volta mi ammazzano sempre quindi... or... cosa non sembri di via no, no, ti... lo vedi, quattro a cinque di video ancora, guarda ok ottimo ma che cazzo mi ammazzano, quello stava alle spalle ma stava alle spalle ah, quell'altro mi piace il coccolone top try to run in smoke che ha detto? stop, a provare ehm, top, top, c'è ah, non c'è spessero di correre di mezzo ehm, mezzo il fu perché tanto bello, oddio che il lancio perfetto da granata ha meritato di ammazzare qualcuno ah, l'ho visto oh, dietro, 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 ehm, manca del paffanculo ci hanno rotto il culo ma scusa attacchiamo e basta non si difende basta, non ci passo più qui mi ha rotto il cazzo perdi c'è la neccolina che è me ma con che si usa il cortello? maia oh, grandi mi ha salvato il culo quello ridatemi l'energia chi mi ridà l'energia? mortacci, dove ho fatto più a corpo? perchè spaga? e me ha fatto più a corpo e forse non c'è, si affoga meglio ma vaffa culo ah, vaffa culo eh, non sapevo da andare c'è, c'è un bico a destra o a sinistra adesso è andata che poi mentre girava a sinistra un pezzetto e stava a ritornare l'ho, l'ho spizzicato con la cosa all'occhio per una tante eh, esatto l'hai vista a destra per un attimo eh, poi stava per tornare in dialogo a visuale ma però attenzione hanno piazzato eh per tenere il game in vita no, vabbè questo è deficiente però riuscita a non ma scusa questi comunque vanno proprio insieme eh eh, li vanno vedete quando li vanno si mi sembra quanto ci va? 7-8 secondi eh, tu prima per quanto? per 1-2 secondi non ce ne sei riuscita a fare a quanto si arriva scusa? a 8 si arriva se ne vincono 2 è finita ripaghiamo leader la loro stessa moneta 10 round non so un po' di sbunda orca puttana già oh vuoi che dite puttana ahia eh, ma colpe l'auto noo vedi che so ma da mezza di tipo 3 stavo stavo ho fatto una strage sul lato sinistro noo noo come è morta male bello noo quello stava troppo stava troppo piazza si oh ma che scoperti gli ha fatto? che scoperti gli ha fatto? hai visto che la? stava così stava così ma come cazzo l'ha ammazzato? MJ come si vai a rivedere? vedi 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 ma che cazzo è successo? vedi 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 z Mamma mia come abbiamo resistito In questa zona Oh l'hiamo girata tutta sta base Do cazzo sta Ha piazzato ma mi sa che è morto Si è morto Si è morto A posto No 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 Che cazzo che parla di volta? Come si fa da settimana? C'è 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 hot C'è C'è O C'è 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 Il Z C'è Guarda questo dove si è messo Eh ma proprio questo ci viene bene proprio Ma ha sfiorato No mi sono preso Ecco Bravissimo Bravissimo Eh rompeva il cazzo Ecco che sponda qua mo Come cazzo è fatta sta base Dove cazzo sta Come fa a fanculo Mezz'ora con stanze qui Attenzione da 6 a 1 6 e 4 Volevo solo far notare questa cosa Io non pago biglietto Ma sai che sta in appia per culo cunda Allora direi che a sinistra sa due volte che teniamo bene Direi di insistere qui Fa lì sfoga qua Oh a capo tutti qua stanno Dove Ah tu sta dall'altro lato Eh si Eh aspetta torno indietro Oddio torno indietro che fa notte Tutti su A quindi stanno Eh da l'altra parte Sono qua a sinistra Qua Eccolo Ho due so No da l'altra parte Dove sono una piccola con l'altra Ecco Bastardo Bellissimo Ci sono Non me lo segnava su radar Non capisco No Sta segnato lì Attenzione Quando piazza non lo posso segnare Eh può essere si E io niente Io là me li butto a sinistra 6 a 5 La grande rimonta Attenzione Stiamo facendo un piccolo miracolo Io Sto Jerem qua Questa resiste E' amanto mi arrivano Jerem Torna qui Eccoli No No Ma che bomba Eh Oh quello sono ferito Che curo Aspetta che controllo dietro Non mi ritiro Occhio occhio 64 HP Occhio Stanno avvenì Stanno avvenì Fagli sfogà Fagli sfogà Tiriamo se dietro Ah sei qua Ciao Eh si Questi stanno là Non riescono ad avanzare Ora stanno ad avanzare Sicuro Occhio occhio Stanno avvenire in due Visto Guardi la corona Ok ho messo abilità Se Se ne sono andati Aspetta Non mi segnala più Occhio sempre Eh infatti 6 pari Attenzione Attenzione 13esimo Dal 6 a 1 Al 6 pari Una delle partite più epiche Vediamo come andrà a finire Ma già questo Abbiamo Abbiamo tirato fuori L'onore Occhio là Io aspetto qua Anzi Se dove stanno Passacquadro Qualcuno Se stacca Guarda là Ah è invisibile Caccia sua È invisibile Do stai De qua Sempre C'è uno Con fucile De secchino Occhio Sì C'è uno Invisibile Che può fucile De secchino Passa De fuori Non dentro Eh La fuori La cosa Stava Vuole invisibilare Sarà passata Eh infatti Qualche volta Ti vedava lontano Quello Se fucile De secchino Quindi Attenzione 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 Incredibile signore Aspetta là ti attivo Ti attivo la cosa Aspetta che c'abbia un Mirko Che già sta là Oh Cotto Mi ha sferato Eh eh È sì Cazino però Eh perché c'è C'è uno strono Ah ecco Ok Andiamo a aiutarlo Andiamo a aiutarlo Ma sta ancora lì Quello Sì Ok Ammazzato Torno indietro No 3 contro 5 6 No Dietro No Dove stai No E'mo perso Porca puttana 6 contro 2 No No Ecco Mi ha ammazzato E'mo E'mo perso E'mo perso 6 contro Siamo emozionati Sì Sì proprio Questo De glassi Gli ha fatto Ma come cazzo faccio A bannar A cosarli dal microfono Non lo so Quali risolzioni il tasto Eh no Mi fa Non mi fa scorrere la lista Non so come se scorrere la lista Attenzione Chi vince questa Vince tutto Concentrati ragazzi Concentrati No perché Questo Mirko Coquigione Va sempre Sparato Dove stai La sala Ok Mirko Comodo Ammazzato Due cristiani Ci stai Aspetta Vediamo se Domare quello Ecco BAM Mamma mia Come cazzo L'hai ammazzato Grandissimo Dai cazzo Sei contro Due Sì Sì Vai così Sbam Vai così Vittoria Come si scrive Sbam F10 Invio poi F10 Per scrivere a tutti Ragazzi Questa è una Le partite più epiche Di Ghost in the Shell Da 6 Da 6 a 1 A 8 7 C'è Non mi è mai capitato Cazzo Porco 2 Figo Un attimo Un attimo Ma cazzo Da 6 a 1 Eh porco 2 E' stata remontata Altra che a Roma Capito La remontata Non sei da tutti Di posizio da Roma Domani questa Ma la rivedo Sì sì Ci dispiace Avvero tanto Esatto Devi mettere la luce Nella cosa Devi Piazzare una Baciu Vicino Ma è frizzato Il video No 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 Sei ancora bellissimo Bellissimo Belli di casa E io C'ho la bacio Qui vicino Veramente Però è troppo Questa Accendi un attimo Vediamo come viene Anceso Aspetta La camera Bilancia La sola Dio un po' Stai facendo Ti stai grattando Ah sta Ecco Ah Che è La luce Eh sì Facete un po' Tanto Eh allora sì Mi sto tipo accecato io Eh infatti Vedi che proprio Quello è per l'occhio brutto Eh Vabbè Chidiamo Chidiamo qui Per questa sera Ede sì Quindi Buonanotte Ai suonatori Perché S'è senza niente Cacandone Buonanotte a tutti Belli e brutti Belli e brutti Mi raccomando Eh Vi saluto Il post-broadcast Come al solito C'è complicata E vabbè Ragazzoli Ci vediamo Alla prossima Alla prossima Domani O quando sarà Bella a tutti Bella Alla prossima Alla prossima Alla prossima